Rifiuti in fiamme questa notte in via Paolo Baratta a Battipaglia a prendere fuoco alcuni sacchetti posizionati accanto ad un albero. Il rogo non si è allargato grazie all'intervento dei volontari della Givi Battipaglia che si trovavano a transitare in zona proprio in quel momento e che hanno prontamente allertato la protezione civile e i vigili del fuoco. Un intervento provvidenziale che ha evitato il coinvolgimento delle vicine auto. Alla base del rogo molto probabilmente un atto di vandalismo.